Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi finalmente ci siamo oggi tra pochissime ore 2 per l'esattezza 2.45 se volessimo essere precisi arriverà la tanto attesa patch 9.40 che porterà una ventata di aria fresca nel nostro Fortnite e soprattutto risolverà un bel po' di domande che tutti noi ci stiamo facendo in questi giorni quale sarà la testa del robot? Cosa sarà l'evento? Cosa succederà questo sabato? Ci sarà il trailer della season 10? XIODER e donna? No questo non lo sappiamo no! Ovviamente no ragazzi quindi tanta tanta roba nel video di oggi però parleremo oltre che della patch 9.40 anche di alcuni file che sono già stati aggiunti da poche ore molto interessanti sono due immagini che parlano del tunnel di neopinnacoli avete presente quel sottopassaggio? Vi farò vedere che cosa è stato modificato ancora non pubblicato ovviamente e DAIE il nuovo fucile a pompa non avevano intenzione di fermarsi nonostante abbiamo già dentro il pompa di merda il pompa tattico il combat il pompa del nonno ci infiliamo dentro il pompa numero 5 che completa così la rosa di tutti i fucilozzi che possiamo utilizzare volevo però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator Xiuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop quando ciò passate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima la domandina ve la devo fare la domandina ragazzi anche ieri mi avete risposto in tantissimi io sono stra felice di leggere i vostri commenti domanda di oggi devo farvela devo farvela ragazzi ma chi vince secondo te il mostro e quindi la mappa viene distrutta e si abissa o il robot e quindi viene salvata la mappa con danni limitati cattus o doggus fatemi sapere ragazzi per chi ti fate io allora io so come più o meno andrà nel senso non è che ne sono certo ma i leaks parlano chiaro ma comunque tifo per il robot ragazzi vorrei che la mappa rimanesse perché c'è troppa storia dietro quindi staremo a vedere ovviamente quello che succede ma quindi cencio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vederlo il tweet ufficiale di fortnite che arriva come un lampo nella notte con un giorno di anticipo rispetto quanto vi avevo detto quanto sapevamo the 9.40 update is closing in sta arrivando l'update il downtime quindi giù i server ragazzi mani stanno giù i server tomorrow giù le 17 che sarebbe oggi alle 4 del mattino per loro che sarebbe alle 10 del mattino per noi lo abbiamo anche in game ragazzi il classico pop up informativo che ci dice tempo di inattività programmato ragazzi davvero ci si aspetta veramente un sacco di cose anche perché davvero la testa è l'ultima parte che manca del robot anche se molti dicono che potrebbe non essere l'ultima parte io credo di sì sinceramente anche per quello che c'è sulla sul puzzle dei fortbite probabilmente finirà lì e sabato vi ricordo sarò in live lo voglio vedere anche io l'evento in tempo reale insieme a voi tra l'altro abbiamo già delle informazioni su reddit ufficiali da parte del team di epic games che ci dà un paio di anticipazioni anticipazioni verranno sistemate dei problemi il primo traps are something invisible to the player molte volte può succedere che durante i combattimenti i giocatori non vedano le trappole a me non è mai successo ma probabilmente è così e quindi sarà uno dei più importanti fix che faranno per la patch 9.40 ancora migliori e pick up issues vuol dire ci sono problemi ed è vero ragazzi a raccogliere la roba da terra gli oggetti consumabili tutto quello che c'è ragazzi probabilmente miglioreranno di nuovo e ancora meglio il metodo di raccolta degli oggetti a terra staremo ovviamente a vedere style challenges from the past season appearing and short complete questo è vero a me non succede più ma è successo fino all'inizio di questa season avevo ancora le robe della season 5 della ragnarok anche se l'avevo già sbloccato ovviamente nella season 5 quindi verrà sistemato se qualcuno di voi ancora lo avesse il problema che nella sezione sfide stile si vedono anche quelli delle cose precedenti ma eccolo ragazzi una delle modifiche una degli update più interessanti il nuovo fucile a pompa abbiamo anche già ragazzi la notizia da un paio di giorni in game o forse addirittura da ieri notte dall'altro ieri notte ora non me lo ricordo con precisione nuovo fucilozzo tattico quindi la domanda che ci si pone è il nuovo fucile verrà inserito o andrà a sostituire un pompa facciamo due conti il pompa del nonno non lo tirano via non lo ti strappano le paio non lo tirano via il combat è il pompa entrato nella season 10 probabilmente non nella season 9 probabilmente non lo tirano via neanche quello il il fucile merdoso quello che ci mette 4 secondi a sparare l'hanno inserito tre settimane fa mi rimane il tac adesso o ci infilano veramente 5 fucili a pompa ma mi sembra una pigliata da culo o altrimenti arrivederci al tac non so ragazzi davvero non sa niente nessuno non ci sono gameplay non ci sono statistiche non ci sono immagini in game quindi questa è solo un'immagine che hanno pubblicato ma in realtà l'arma non è ancora inserita nei file di gioco c'è però una curiosità su quest'immagine ragazzi probabilmente chi l'ha pubblicata aveva abbastanza fretta perché se notate bene proprio qua ragazzi sotto si vede un altro fucile a pompa e sicuramente avete capito di quale parliamo ragazzi è il il fucile a pompa il combat ragazzi purtroppo ci sono dimenticati di sistemare le immagini quindi un fatto molto curioso che ci fa semplicemente sorridere ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed è quello che il nostro donato mostarda ci va a dire modifica nuovamente il suo status sapete che noi teniamo controllato lo status del mostarda per sapere un po' quello che sta per accadere control center era prima starving che voleva dire affamato è diventato control center molto probabilmente si sta parlando del robot che verrà controllato e da dai giocatori da noi probabilmente anche se non è che fisicamente lo controlliamo cioè lo vedremo muoversi ed è come se fossimo noi a controllarlo e si stanno davvero preparando per farlo partire questo sabato vi ricordo alle ore 20 ma eccolo ragazzi quello che vi anticipavo all'inizio del video questo ragazzi è il il modello in 3d nei file di gioco del sostegno del ponte di neopinnacoli dove c'è sotto il camion più o meno avete presente no dove abbiamo preso in questa season uno dei fort bite in poche parole beh ieri pomeriggio è stato aggiunto questa immagine ragazzi ed è interessantissima come cosa non è una minchiata perché c'è scritto destroy quindi si capisce benissimo che ha ceduto il sostegno del ponte si accartoccia su se stessa un'asta di sostegno e un'altra parte fondamentale questo cosa vuol dire sicuramente è legato all'evento se fosse una cosa che vedremo adesso magari è un file che vedremo nella season 10 chi lo sa ragazzi però sicuramente capiterà nuovamente qualche cosa a pinnacoli non sappiamo in che entità il danno ma di certo aspettiamoci qualcosa di nuovo non mi parte là lo slide non è facile e chiudiamo ragazzi invece questo oggi con il compleanno di fortnite manca davvero poco oggi il 17 luglio esattamente fra sette giorni quindi mercoledì prossimo arriverà il secondo compleanno di fortnite questa è un'immagine per chi c'era nel 2018 di il primo compleanno di fortnite che era corredata con quest'altro wallpaper super meraviglioso che purtroppo non ci hanno mai dato in realtà era semplicemente un'immagine e probabilmente arriveranno anche le sfide del secondo compleanno di fortnite per chi c'era l'anno scorso ci hanno regalato il backpack con la torta l'emote con il numero 1 e lo spray con il numero 1 se non ricordo male o i palloncini insomma ragazzi tante le novità che arriveranno tra poche ore io sarò qua in live insieme a voi vedremo insieme tutti i leaks e quindi vi ringrazio per aver guardato questo video iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao